Amici appassionati di smartwatch, ben ritrovati sul canale e oggi andremo a conoscere il nuovo orologio di Xiaomi, ovvero il Mi Watch. Bello il quadrante, ovviamente in qualità AMOLED, un sacco di allenamenti disponibili, poi ne parleremo, quindi farà felici tutti gli sportivi, ma non solo perché abbiamo anche un microfono per attivare Alexa. Insomma, andrò nello specifico in questa recensione, mettetevi comodi, preparate i popcorn e benvenuti nella recensione di Xiaomi Mi Watch. Ed eccola la confezione di ventita del nuovo Xiaomi Mi Watch, molto carina a mio avviso, anche il carattere utilizzato per le scritte, secondo me è veramente simpatico e anche molto molto giovanile. All'interno della confezione, vabbè l'orologio arriva fra un attimo, abbiamo manualistica e questa basetta di ricarica magnetica, ovviamente cavetto USB. Ma andiamolo a vedere, l'orologio della recensione, eccolo qua, colorazione beige, perché l'ho acquistato insieme allo Xiaomi Mi 11, era in promo, solamente in questa colorazione, vabbè, cinturino in TPU, notevole anche la quadrettatura, piccola piccola, beh, insomma, sì, mi è piaciuto meglio del classico cinturino cinesone. Il quadrante è 1.39 pollici, AMOLED, si vede benissimo sotto al sole, è impermeabile, certamente, due pulsantini fisici, uno in alto richiama le modalità e l'altro richiama l'attività sportiva, infatti abbiamo sport con un contorno. Sulla parte posteriore la ghiera ospita tutti i rilevatori, tutti i sensori del caso, oltre al logo Mi, troviamo il rilevatore del battito cardiaco, della saturazione, i pin di ricarica, insomma, tutto qua. Da queste mollette si sgancia il cinturino e sappiate che nella parte alta, ovvero qua, nascosto più o meno dove c'è il cinturino, qua, abbiamo un microfono voce, perché lui, il Mi Watch, ospita anche la possibilità di utilizzare Alexa. Vedete, abbiamo il simbolo di Alexa, quindi collegato al vostro smartphone e collegato comunque a un account con Alexa attivato, potrete interagire con questo. Badate bene che non c'è però l'altoparlante, quindi Alexa è solamente in ascolto. La risposta arriva sul quadrante in forma testuale. Vi faccio un esempio, tengo premuto il pulsante, quanto fa uno più uno? E adesso vi parlo dei due pulsanti, quello più in basso attiva tutte le modalità sportive, e sono tantissime ragazzi, qualunque tipo di sport viene monitorato, e se non avete abbastanza possiamo aggiungere ulteriori modalità sportive, fra cui ad esempio la box, e adesso vedete pugilato, wrestling, arti marziali. Insomma, un casino di applicazioni, un sacco di allenamenti, adesso il karate è stato aggiunto alla lista delle attività sportive. Vi faccio vedere una camminata, quindi indossiamo il bracciale. Lui ha il GPS integrato, monitora costantemente il battito cardiaco, possiamo prima dell'allenamento impostare degli obiettivi, quindi per distanza oppure per tempo di allenamento. Andiamo a premere su go, parte il timer e adesso lui monitora tutto quello che concerne una camminata, quindi distanza, velocità e calorie bruciate. Ed è molto attendibile ragazzi, perché in genere questi orologi qua tendono sempre a sottostimare o sovrastimare. Lui è preciso, uno dei pochi orologi che ho provato, che mi ha dato la sensazione di misurare realmente i dati, senza esagerare o senza sottostimarli. Vi parlo del pulsantino in alto, che va a richiamare il menu delle applicazioni. Una scelta che non rispecchia un design perfetto, secondo me questi spazi neri sono un po' un cazzotto in un occhio, però forse queste iconcine sono per distinguersi dalla massa di smartwatch ad oggi sul mercato. Allora troveremo la torcia, quindi tocca per abilitare, eccola qui. Abbiamo il trovatelefono, abbiamo la lettura delle notifiche e questo è un esempio di notifica. Festa del papà, io vado a leggere la mail, ma non posso leggere tutto il corpo della notifica. Abbiamo ovviamente il meteo, abbiamo la sveglia, il cronometro, Alexa e la possibilità di controllare la musica. Grazie a questo player possiamo comandare tutta la musica presente sul nostro smartphone direttamente qua dall'orologio. Possiamo alzare il volume, ecco qua, oppure cambiare brano. Abbiamo poi la parte relativa alla fotocamera, possiamo scattare le fotografie direttamente dall'orologio, verranno scattate dal telefono ovviamente. E nella parte in alto una sezione relativa a cosa analizza l'orologio, ovvero l'attività sportiva. Guardate, un grafico delle calorie, dei passi, quanto tempo sono stato in piedi e un resoconto a livello cronologico. Ma abbiamo anche l'ossigenazione, quindi la possibilità di misurare la mia ossigenazione. Clicchiamo su misura, parte il timer e vediamo com'è l'animazione, che è anche abbastanza carina. Aspettiamo di vedere il risultato. 97%, vedete parte questo timer circolare. Una volta completato vi darà il quadro completo dell'ossigenazione. Dovrebbe attestarsi quindi sul 97%. Eccolo qua, tac, ed è finita con 102 battiti. Abbiamo anche reso conto della frequenza cardiaca, quindi vedete i battiti per minuto con i massimi e i minimi, con una categoria di esercizi. Quindi io praticamente sono stato misurato quasi sempre in riscaldamento, non ho mai fatto esercizi estremi. Misurazione ovviamente del sonno, ma anche dello stress. Quindi questo orologio misura il vostro stress, anche se secondo me i risultati lasciano il tempo che trovano. Possibilità di respirazione, quindi inspira e espira per rilassarvi. E l'energia, secondo lui voi siete una sorta di valore numerico, una sorta di batteria che è carica. A seconda di quello che fate durante la giornata, lui vi dice se siete bene o male, scarichi se siete in forma o meno. Ecco qua, al raggiungimento di una telefonata, possiamo solamente silenziare la suoneria del telefono oppure riagganciare direttamente, quindi non sarà possibile andare a rispondere, non avendo un altoparlante o un microfono dedicati alla conversazione. Come non sarà possibile rispondere alle notifiche, quindi possiamo solamente visualizzarle, ma non potremmo rispondere. E sì, legge gli emoticons, non tutti e non li legge colorati, li legge con una tonalità chiaro-oscuro, diciamo. Vi parlo di batteria. Questo Mi Watch di Xiaomi ha una batteria da 420 mAh e la durata dichiarata a due settimane. In realtà, cari ragazzi, dopo dieci giorni io devo sempre ricaricarlo, sarà base anche alla luminosità e alle notifiche che riceverete, però insomma, una decina di giorni ci sta tutto. Inutile dire se c'è o meno l'NFC perché vi potrei dire che c'è, ma ovviamente in Italia la funzione NFC dell'orologio non sarà mai utilizzabile, almeno per il momento. Sensore del battito, barometro, altimetro, bussola, giroscopio, ossigenazione e anche GPS con GLONASS. Beh, un sacco di belle caratteristiche, allora non ci resta adesso che andare a vederlo in abbinata alla sua applicazione. La sua applicazione, eccola qui, Xiaomi Wear, la vado ad attivare e vediamo un po' di capirci qualcosa. Lo stato vi fa una sorta di riepilogo di quello che avete combinato. Sono totale dell'ultima notte, 7 ore e 59 e poi classificazione in sonno leggero, fase REM e sveglio. Andiamo poi a vedere la sezione allenamenti, quindi vi geolocalizzerà e vi dirà il percorso che state facendo, oppure potrete usare il tapirulane, vi segnerà tutte le informazioni, la camminata, il ciclismo, insomma vai e allora partirà un tracciato del vostro percorso. Nella sezione profilo, tutto quello che dovete sapere con questo omino simpatico che mi somiglia tra l'altro, piccolo particolare, connessione al Mi Watch, la sezione quadranti, ce ne sono 4 già precaricati e altri che potrete scaricare dalla sezione online. Sono abbastanza, non sono tantissimi, alcuni pure personalizzabili, come ad esempio questo. Possiamo andare su sostituisci foto e da lì potremo teoricamente caricare una mia fotografia. Eccolo qua, l'anteprima di quello che poi succederà. Per sincronizzare i quadranti, niente di più semplice, basterà andare su un quadrante specifico, andare su applica, e in me che non si dica il quadrante viene sincronizzato con l'orologio. Per finire, nella parte bassa avrete da abilitare un sacco di cose, tra cui l'applicazione di Alexa, per riconoscere la vostra voce, le notifiche sul dispositivo, ricordatevi di abilitarle, e sono personalizzabili. Quindi tutte, tutte queste, io ho abilitato solo quelle che mi servivano, c'è messaggi, c'è la telefonata, c'è Instagram, c'è Facebook, Telegram e WhatsApp. Quindi state tranquilli. Quelle principali ci sono, come la possibilità di ricevere le telefonate, ma non visualizzare il numero del chiamante. Potrete semplicemente decidere di vedere solo la cornetta e la telefonata in arrivo. Cosa scomoda, secondo me, se siamo sull'orologio. A questo punto, beh, conviene guardarci direttamente tutte le informazioni. Appassionati, secondo voi, quanto abbiamo speso per portarsi a casa lui, ovvero il nuovo Xiaomi Mi Watch di listino? Servono 129,99€, ma già, se siete attenti ai codici sconto, si trova intorno ai 99€. Allora, a 130 va a scontrarsi con tantissimi orologi, quindi Best Buy così così, ma a 99, beh, come il posso? Io non consigliarvelo. Un orologio così bello, con un display che si legge bene sotto al sole, con luminosità automatica, con Alexa e con un casino di attività per lo sport, beh, sicuramente promosso, anche perché lui è uno dei pochi che misura bene e abbastanza accuratamente i passi, le calorie, la pressione e l'ossigenazione. Insomma, è abbastanza preciso. I più svelti se lo sono portato a casa in questi giorni, in abbinata allo Xiaomi Mi 11. Allora, io continuo a ripeterevelo, questo orologio a me è piaciuto, mi sono divertito, si fa notare e questo badge, beh, è qualcosa di diverso dal solito nero. Ormai gli orologi sono tutti neri o bianchi, beh, questo badge, secondo me, dà anche un tocco di originalità. Ma fatemi sapere quello che ne pensate, se lo avete acquistato, se lo acquisterete. Insomma, vi aspetto sotto al rettangolo del video. Appassionati di shopping, non perdetevi il gruppo Telegram e Facebook. Offerte Smart Italia, codici sconto. C'è anche lui, sì, per portarlo a casa ad un prezzo più basso rispetto al listino. Noi ci sentiamo presto, alla prossima recensione. Ciao!